Cosa c'è? Ah! 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 Iiii! Ah! Iiii! Iiii! Lo sento! Lo sento! Lo sento! Fermo un attimo. Ti ricordo che se vuoi beccarti in questi momenti in diretta, ti trovi tutti i giorni, quasi, su Twitch dalle 20.30. Ma adesso, buona visione, Eutu. Siamo in un parco giochi. No, no, siamo in uno scivolo. No, c'è solo lo scivolo. Scivoliamo. Sì! E ora che faccio? I piedi ci sono. Sì, credo di sì, ragazzi. Cioè, voglio dire, mettono quell'albero là sotto. Lo vedete quello là in fondo? Perché non dovrebbero mettere i piedi. Ci sono, raga. Tranquilli che ci sono i piedi. No, no, a sto giro... Scivoliamo. Perché il cielo è diventato grigio? Scivoliamo. Ma che vado in retromarcia? Cos'è c'è? Ho sentito dei passi! Ho sentito dei passi! Ok. Ok, abbiamo una torcia. Ok. Per fortuna c'è... C'è un po' di batteria rimanente. Bene. Ok. Scivoliamo. Scivoliamo. E cos'è? E cos'è un giornale? Un foglio di giornale? Tragedia in una piccola città. Sono state disperse delle persone a causa di un parco in modo inspiegabile, irrisolvibile. Dei report dicevano che alcuni bambini, ma anche alcuni adulti sono dispersi. Un detective sta lavorando sul caso. Lui sta chiedendo, sta dicendo... Lui sta chiedendo se c'è qualcuno che ha qualche informazione a riguardo. O se nessuno ha visto una delle vittime. In caso contattatelo. Anche voi se l'avete visto. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Questo giro non è successo niente Ci voliamo WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Wow, sto giro non finisce Perché ci sono delle impronte a forme di chiappe sulle scale? Mi sa che un bambino ha scambiato lo scivolo con le scale Se l'è fatta tutta di col... Lo facevo da mia nonna io Cos'è un verme? Ciao Ma è amichevole Ciao No, povero verme! Scivoliamo Weeeeee Weeeeee Weeeee 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 Weeeeee 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 Weeeee 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 WEEEEEEEEE Ma cos'è sto coso? Era una persona. Ah, dite che era una persona infilata in un sacco. Buonasera. Rimuovi la catena. Rimuovi la catena. Aspetta, aspetta. Rimuovi la catena. Rimuovi la catena. Oddio. Ragà. Che? Ma arriverà prima o poi? Oh. Ah. Lui non passa qui, raga. Ciao. È troppo alto. Da patatino. Cosa? Certizio, raga. Raga. Raga, non si apre. Raga, non si apre. Raga, non si apre. Raga. Lo sento! Lo sento! Lo sento! Lo sento! Lo sento! No, ragazzi, non vaffelo! È lento, è lento! Mi sto sentendo... Ma che cacchio stiamo scherzando? Ah! No, non ce la faccio, no, non ce la faccio, non ce la faccio! Stiro prima, stiro prima, veloce! È dietro di me, raga, raga! Mi prende, mi prende! Raga, sono lentissimo! Raga, raga! No, raga, no! No, raga, no! No, non va più veloce! Non va più veloce! Non va più veloce! Di braga! Di braga! Ui! 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 Ui, 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 ui! Ui, ui, ui! 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 Ui, 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 ui! Ui, 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 ui! È lo scivolo! Bruttissimi pezzi di me Ah e poi si chiude così